Il cinema ormai sta diventando sempre di più, per la richiesta che c'è, soprattutto da parte delle piattaforme che hanno bisogno di contenuti, si stacca da quel ruolo esclusivamente artistico e di nicchia per andare a diventare una realtà industriale quasi, come è in America. E per industriale non vuol dire far decadere quello che è il progetto o la qualità del lavoro, significa invece cercare di farlo dal punto di vista pensato, pianificato e ottimizzato. Ed è per questo che la figura di un project manager e soprattutto la continua dialettica tra regista, come sono io in questo caso, è scrittore, e la produzione, chi produce è fondamentale, perché soltanto da una pianificazione dettagliata, da un outlook che si ha nel cercare di prevedere come possa essere la linea produttiva, che la linea produttiva sarà quindi ottimizzata e il prodotto stesso, il cinema, il film, la serie televisiva o qualsiasi altra cosa diventi veramente fruibile e soprattutto prodotta secondo un'ottimizzazione perfetta, senza sprechi, con quello che è uno studio che prima magari veniva fatto ma in maniera forse troppo lieve. Invece con questa pianificazione mutuata da altre imprese ci permette di costruire prodotti, in questo caso film, serie eccetera, perfetti dal punto di vista produttivo. In Italia diciamo che ormai le case di produzione si sono adeguate a un sistema produttivo che è ormai 3.0, nel senso che siamo passati, come dicevo nella precedente risposta, da una situazione semi-artigianale a un prodotto invece che diventa impresa, diventa seriamente un prodotto da replicare secondo delle regole che non possono essere improvvisate e quindi questo diciamo che in Italia si sta passando, c'è questo passaggio da un sistema a un altro.